Buongiorno a tutti, se non mi conoscete io mi chiamo Manuel. Questo è il mio secondo canale. Il primo canale si chiama Montemarzano, vi lascio il link se lo volete vedere, parla di questo fantastico posto che vedete alle mie spalle, il mio bosco. In questo canale ho già fatto diversi video un po' legati alla tecnologia ma che non ho approfondito più del tanto perché i miei iscritti sono persone che amano la natura, la vita all'aria aperta, quindi non gli interessa vedere nel dettaglio le cose tecniche. Ma io sono un patito da quasi da quando sono nato per l'elettronica, per la tecnologia, automazioni eccetera e quindi ho deciso di aprire questo secondo canale, canale Marsano Tech che sarà organizzato, suddiviso in playlist. Ogni playlist andremo a trattare, a discutere di un argomento. Ci sarà la playlist del fotovoltaico, quella dove lavorerò maggiormente, la playlist dei supercondensatori, la playlist della domotica, la playlist delle telecamere wireless e chi più ne ha e più ne metta. Quindi se vi interessa vedere tutto quello che andrò a fare e credo che sarà molto interessante soprattutto per l'argomento fotovoltaico, non dimenticate di iscrivervi per non perdervi i prossimi video. So che questa è una frase che ormai dicono tutti su YouTube. Andrò a parlare di tecnologia perché la tecnologia è il mio amore, amore che è sbocciato all'età di otto anni. Devo ringraziare il mio ex cognato Alessandro che mi ha attaccato a questa malattia che poi è diventato un mestiere. Devo ringraziare mio fratello che mi ha regalato all'età di otto anni il mio primo computer, un Commodore 64 e da lì non sono più riuscito a fare a meno di questa malattia perché veramente è una malattia. Una malattia che però devo ringraziare perché mi ha fatto fare una discreta carriera nel mio campo ma altrettanto mi ha fatto spendere un sacco di soldi che probabilmente se li spendevi in altro forse era meglio. Infatti tutte le volte che trovo qualche cosina di nuovo, di interessante non sono contento finché non vado a cliccare per riceverlo a casa. In questo canale si parlerà tanto di fotovoltaico che è la mia passione. Qui dietro di me c'è un piccolo progettino di un carrello fotovoltaico che ho fatto per il canale principale Montemarzano. Vi lascio qua il link se lo volete andare a vedere e quindi anche su questo carrello andremo a fare delle prove, delle migliorie, andremo a capire meglio il discorso della bifase e tante cosine che vedrete spesso questo oggettino in questo nuovo canale. Tutto il canale sarà organizzato in playlist. Ogni playlist ci sarà un primo video di presentazione della playlist dove andrò a descrivere cosa andremo a fare, di cosa si parlerà su quella playlist. Poi i primi video saranno principalmente di teoria perché è sempre bene capire prima la teoria per poi passare alla pratica e poi tutti i video di pratica. Quindi andremo a mettere in pratica quello che avremo imparato assieme. L'obiettivo di questo canale è anche quello di condividere. Io non sono nato saputo, nessuno è nato saputo, dobbiamo stare attenti perché spesso pecchiamo di dire ah no ma io so tu sei ignorante non capisci niente. Non è così che bisogna lavorare ma non solo nell'elettronica in tutti i settori. Dobbiamo sempre ascoltare gli altri, anzi dobbiamo ascoltare quelli che la pensano in modo diverso da noi. Perché? Perché probabilmente se c'è qualcuno che la pensa in modo diverso da noi significa che forse stiamo sbagliando noi quindi andiamo ad ascoltarli e un altro e un altro e un altro ancora. Se dopo averne ascoltato i dieci che la pensano in modo diverso da noi io continuo a pensare di essere da parte della ragione va bene sarò più convinto delle mie convinzioni. Allora cosa aspettate? Iscrivetevi! Buon Montemarzano!